Il Taranto Il direttore generale Montella martedì scorso qui a Cento Sport Magazine ha detto che l'80% di questa squadra sarà confermato per l'anno prossimo, perché questo significa programmazione. Ti senti inserito in questo 80%? Noi personalmente lavoro per far parte di questo 80%, sicuramente come lavorano tutti quanti, poi starà chi di dovere fare le proprie decisioni. Noi sappiamo che dobbiamo dare il meglio e cercare di vincere tutte le partite, così metteremo in difficoltà chi dovrà scegliere, chi dovrà fare delle decisioni. Più metteremo in difficoltà chi di dovere, più saremo stati bravi sul campo. Il tuo comparuzzo, usando un termine caro a te perché sei calabrese, Rosania, martedì scorso ha detto che il nostro obiettivo è il secondo posto, sei d'accordo con lui? Il secondo posto no, diciamo che il nostro obiettivo è vincere tutte le partite, poi a fine campionato vedremo. Certamente per quanto riguarda la prima posizione si fa difficile, però magari come il Taranto ha avuto un blackout all'inizio, magari il potenza lo potrà avere alla fine. Quindi noi faremo di tutto per vincerle tutte. Poi se il potenza non avrà questo blackout vorrà dire che dovremo fare la lotta per arrivare a secondi, così da avere una posizione di graduatoria agevolata per quanto riguarda i playoff e poi anche per quanto riguarda, caso mai l'anno prossimo per quanto riguarda i ripescaggi perché se vinci i playoff ti metti in una graduatoria e la società e tutti noi se non dovessimo arrivare a primi saremmo disposti a fare la domanda di ripescaggio. Parliamo del presidente Massimo Giove e del vicepresidente Giuseppe Giove, che sono due uomini di calcio perché a differenza di quanto solitamente accade sono due competenti. Mi dai un giudizio su questa dirigenza? Io penso che non sono io quello che deve giudicare, ma possono giudicare benissimo i fatti. Hanno fatto una squadra, da quando sono arrivati nel giorno di ritorno, hanno fatto una squadra quadrata dove tutti agiscono secondo i ruoli che hanno e quindi hanno dato ordine e tranquillità a tutto l'ambiente. Domenica il match del Taranto contro il Nardò per quel che riguarda i precedenti. Vi ricordo che il Taranto non vince col Nardò dagli anni 90, signor Sossio Aruta nel 1993-94. Mentre invece sono praticamente dal 1969 che il Taranto non vince a Nardò, quindi sarà una partita abbastanza complicata per quanto riguarda la formazione ionica. Già affrontato il Nardò fuori casa in Coppa Italia in questa stagione 0-0, poi uscì il Taranto ai calci di rigore. Era la Coppa Italia ed eravamo ad inizio della stagione. Passiamo adesso alla Virtus Francavilla che invece anticipa al sabato il proprio impegno contro la Paganese. Sentiamo Fabrizio Caganiello. Pareggio positivo quello ottenuto dalla Virtus Francavilla nello stadio massimino di Catania contro la Sicula Leonzio. Un 2-2 ottenuto in rimonta che sembra allontanare il momento buio dei biancazzurri. Il ritorno al 3-5-2 ha dato i suoi frutti, soprattutto in fase offensiva, meno in quella difensiva. Si è sbloccato l'attacco, ha segnato Partipilo uno dei nuovi arrivi, da registrare il reparto arretrato che ha concesso un po' troppo ai siciliani. Il rientro degli acciaccati lascia ben sperare. La fortuna sembra stia girando finalmente, portando tranquillità in casa Virtus e soprattutto in D'Agostino e i suoi ragazzi. La prossima partita al Fanuzzi è alla portata e la Paganese non sta attraversando un buon momento. Favo è stato esonerato dopo la sconfitta eterna con la Fidelissandria. Il tecnico era arrivato sulla panchina degli Azzurro Stellati il 28 agosto dopo l'esonero di Salvatore Matrecano. Prende quota la soluzione interna. Il vice di Favo, Fabio De Sanso, potrebbe rimanere sulla panchina in qualità di primo allenatore. Il servizio è di Andrea Contani e non di Fabrizio Caglianiello, come abbiamo enoneamente detto in precedenza. E adesso passiamo al punto nel campionato di promozione con Martina e Ginosa. Il Martina che anticipa anche lei al sabato il prossimo impegno contro il Bitritto. Ma vediamo nel servizio il punto per le Tarantini nel Gironial. C'era di crisi in casa Ginosa. Infatti la formazione allenata da Toni Pizzulli ha incassato lo 0-2 Almiani contro il Polimnia per una vittoria che sfugge ancora e manca addirittura dal 7 di gennaio quando ci fu il 3-1 sempre al Miani contro lo Spinazzola. Dopodiché sono arrivate cinque sconfitte di cui tre consecutive e due pareggi che hanno fatto precipitare la formazione bianca-azzura fuori dalla zona play-off e con un'attenzione non tanto particolare verso la zona bassa della graduatoria. All'interno dei play-off invece c'è il Martina del duo De Tommaso-Gavegna Reduce dall'1-1 contro il Real City pari ad opera di De Tommaso ma noi sentiamo l'allenatore martinese-Gavegna. Secondo me è un'ottima gara dal punto di vista mentale non abbiamo mollato, abbiamo continuato a giocare e niente, comunque abbiamo conquistato un pareggio so che comunque c'è un po' da mare in bocca anche da parte nostra dispiace anche a noi perché volevamo vincere però purtroppo il verdetto del campo è questo e bisogna prendere le cose positive e vedere e migliorare le cose negative. Penso che sicuramente quel pizzico dell'ultimo tocco in più cioè l'ultimo tocco di qualità ci è mancato l'ultimo passaggio giusto, forse l'ultimo tito giusto poi sinceramente non ho visto la brillantezza di domenica scorso nelle gambe ma ci sta non è che tutte le partite possiamo stare al 100% brillantissimi come magari domenica scorso io l'ho sempre detto noi dobbiamo essere squadra come lo siamo stati anche oggi a prescindere dal risultato che non è stata una vittoria io penso che c'è stato di nuovo un atteggiamento da squadra come comunque domenica scorso è quello che vogliamo tutti vedere dalla società, anche i tifosi e noi tecnici vogliamo che ci sia sempre un'idea di gioco e una squadra sempre con quell'idea e vogliamo continuare su questo binario. Ed ora invece il basket, il Cus Ionico campionato di Serie C Silver per uscire dalla crisi il Cus si affida a Giulio Caricasole il tecnico ex Virtus società che fa parte naturalmente dell'orbita del Cus Ionico il nuovo tecnico per cercare di uscire dalla terz'ultima posizione di classifica nato nel 1973 a Taranto dopo essersi fatto le ossa nel Cus ha giocato in Puglia, Basilicata e nel Lazio per quanto riguarda il nuovo tecnico che ha incontrato la squadra l'obiettivo naturalmente come detto è quello di cercare di raggiungere la salvezza in C Silver ha anche ricoperto gli incarichi di Heat Coach in C e D sulle panchine di Ostuni San Vito dei Normanni Carovigno e Ceglie per quanto riguarda invece la pallannuoto la Mediterraneo Taranto Mediterraneo che perde ma è una sconfitta che non fa male nell'ultimo turno contro Volturno finale 6 a 3 in favore della formazione di casa la Mediterraneo torna quindi a manivuola dalla trasferta di Santa Maria Capoavetere ma la sfida con il forte Volturno ha confermato la crescita da parte dei ragazzi allenati da Paolo Baiardini per noi ha raccontato il tecnico è stata una partita importante che ci ha visti battuti anche se siamo stati in gara fino al termine avevo chiesto concentrazione e determinazione dopo la sconfitta con l'Istia e queste caratteristiche stanno pian piano venendo alla luce dobbiamo acquisire maggiore esperienza e questa potrà avvenire soltanto giocando partita prossima sabato il 3 marzo contro Salerno che sarà ospite della piscina di Via Bruno per quanto riguarda il settore giovanile l'Under 20 sempre nella Mediterraneo invece c'è stata una sconfitta di misura contro Crotone per 11 a 12 con il 7 ionico in vantaggio per 10 a 7 alla fine del terzo quarto e ha sciupato un'occasione d'oro per portare a casa il bottino pieno tra le mura amiche è stata una partita umorale ha raccontato il coach Paolo Baierdini iniziata con un sostanziale pareggio poi ci sono stati due strappi uno a favore della Mediterraneo e l'altro quello decisivo a favore di Crotone è tutto per questa edizione di Centro Notizie Sport grazie a Peppe Candelli in regia al più cordiale saluto e buon proseguimento con i programmi di Studio Centro arrivederci